L'IRPET festeggia 50 anni. L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana è infatti nato nel 1968 con l'obiettivo di dare conoscenze alla pubblica amministrazione. A Palazzo Bastoggi erano presenti rappresentanti di istituzioni del mondo accademico e scientifico e di quello produttivo. Nel 1968 in Toscana c'erano 3.430.000 persone, oggi sono 210.000 in più. Gli italiani sono circa 60.000 in meno, mentre gli stranieri sono 400.000 in più. Oggi una persona su sei è un giovane. Nel 1968 il rapporto era 1 a 3. A quell'epoca i giovani parlavano di immaginazione al potere. Invece ci fu un gruppo di persone che diceva dati per governare, quindi sembra l'opposto di quanto dicevano i giovani di allora. Quindi l'idea di fornire alla politica, alla politica locale in modo particolare, allora la regione non c'era ancora. Le conoscenze per governare e per programmare. Si usava anche la parola programmare. I giovani allora dicevano non programmiamo il futuro, invece li ripetono solo per programmare. Agli inizi degli anni 70 un terzo dell'occupazione era concentrata nell'industria, oggi un quinto e le famiglie destinavano un terzo del loro reddito all'acquisto di prodotti alimentari, oggi solo un quinto. Rispetto ad allora ci sono più laureati e oggi le donne hanno più corone di alloro degli uomini. Il presidente Rossi ha spiegato che questo istituto è stato il pensiero dello sviluppo e della crescita della Toscana, occupandosi di tutelare il lavoro, le persone, gli imprenditori, i distretti. L'IRPET ci ha dato tanti buoni consigli, noi siamo perché continua a lavorare, a 50 anni ma non li dimostra direi, e siamo favorevoli anche a che studino. Un libro abbiamo chiesto all'IRPET sui prossimi 50 anni della Toscana, un libro da cui partire per fare un dibattito, per discutere, per approfondire i temi dello sviluppo del lavoro in questa regione. Quando vide la luce, in IRPET lavoravano 4 persone, adesso sono circa 40.